Utilizzate la condivisione della posizione di iPhone con i vostri amici o familiari? Beh, anch'io. E oggi noi di Dr. Phone siamo qui per aiutarvi a risolvere i problemi che potrebbe avere questa funzionalità se proprio si rifiuta di collaborare. Benvenuti o bentornati sul canale di Wondershare in italiano. Io sono Pietro e oggi appunto andiamo a scoprire innanzitutto i problemi che possono causare un malfunzionamento della funzione trovo i miei contatti, trovo i miei amici di iPhone e poi appunto come risolvere. Iniziamo. Dunque, prima di partire con il tutorial vero e proprio, ricordatevi soltanto di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e magari cliccare la campanella. Sono piccoli gesti ma vi aiutano ad essere sempre aggiornati con le novità del canale e supportano moltissimo il nostro lavoro. Partiamo con i motivi che possono portare a un malfunzionamento appunto della funzione dov'è legata al trovare le persone. Perché per andare a risolvere il problema è necessario capire, comprendere bene come funziona questa applicazione, questa funzionalità dell'iPhone e cosa può dare problemi. Il primo problema, quello più comune tendenzialmente, è che semplicemente il contatto di cui non vedete la posizione ha disattivato i servizi di localizzazione oppure la condivisione della posizione. Questo può averlo fatto per sbaglio o magari semplicemente perché non vuole essere localizzato, non vuole farvi sapere dov'è. Un'altra possibilità è semplicemente quella che l'utente che state cercando di trovare non abbia mai attivato i servizi di localizzazione e questa funzione in particolare. Questo può succedere perché non tutti abbiano la stessa sensibilità con queste cose. C'è chi è più disposto a dare dati sensibili come la posizione in giro, condividerla e chi meno. Poi c'è la possibilità che qualcosa nel telefono del vostro contatto non stia funzionando correttamente, quindi un semplice riavvio o un po' di procedure che vedremo dopo possono aiutare. Poi ancora potrebbe essere un problema legato alla data e all'ora sull'iPhone del contatto che volete trovare che non è sincronizzata correttamente con gli orologi globali di internet. Essenzialmente se il vostro contatto sta usando l'orario impostato manualmente invece che usare quell'automatico dell'iPhone potrebbe essere appunto l'iPhone fuori fase rispetto a tutti gli altri dispositivi, quindi dare problemi anche in questo senso. E queste sono le cause principali che possono portare a problemi per quanto riguarda l'applicazione e dov'è. Quindi ora che abbiamo capito le cause è ora di scoprire come risolvere. Vi presenteremo vari metodi, vari step da seguire, in realtà sarebbe bene farli tutti per assicurarsi che tutto sia impostato correttamente. Per questo però è anche molto importante avere imparato adesso queste problematiche comuni che sono quelle che causano il malfunzionamento dell'applicazione. In questo modo possiamo anche comprendere bene come risolverle. Quindi primo metodo da provare è andare a sbloccare i servizi di localizzazione. Questo perché l'iPhone appunto ha dei servizi di localizzazione che però possono o essere disattivati semplicemente e vedremo come attivarli, ma anche essere attivi ma essersi momentaneamente bloccati. Quindi vedremo anche come riavviarli. Chiaramente per queste operazioni andremo sempre a lavorare sul telefono del contatto del quale non riusciamo a vedere la posizione, quindi bisogna essere d'accordo con lui e che vi presti il telefono o che lo faccia lui sotto la vostra guida. Insomma non condividetevi posizioni di persone se non sapete che davvero vogliano farlo. Quindi sul suo telefono aprite le impostazioni, scorrete fino alla sezione privacy e sicurezza, quindi selezionate localizzazione. Da qui troverete in alto un pulsante che vi permette di attivare o disattivare i servizi di localizzazione di iPhone. Ovviamente dovrebbero essere accesi, se non lo sono probabilmente il problema era questo, a meno che non ce ne siano anche altri. Anche se sono accesi però quello che è consigliato fare è spegnerli e poi riaccenderli in modo da fare una sorta di reset, farli ripartire da capo e questo tipo di processo nella mia esperienza e non solo può aiutare. Quindi assicuratevi che siano accesi correttamente e magari anche riavviati quando abbandonate questa pagina delle impostazioni, dopodiché fate un controllo per vedere se adesso la posizione risulta condivisa. Se ancora non lo è, se questo primo metodo non ha risolto il problema, potrebbe esserci appunto qualcos'altro che ci impedisce di vedere la posizione. Quindi ecco un'altra strada che possiamo tentare. Abbiamo detto che una mancata sincronizzazione della data e dell'ora può portare a problemi. Quindi assicuriamoci che queste siano impostate correttamente. Per farlo, come sempre, andiamo ad aprire le impostazioni dell'iPhone e questa volta clicchiamo su generali. Una volta fatto cerchiamo la sezione data ed ora, clicchiamola e assicuriamoci che l'opzione automatica sia attiva, perché quando questa opzione è appunto attiva, l'iPhone connettendosi a internet in automatico recupera il corretto orario, sia la data che l'ora appunto. Quindi permette la sincronizzazione perfetta con tutti gli altri dispositivi sulla rete. Quindi assicuratevi che sia attiva la funzionalità automatiche, ma se anche questo non ha risolto il problema, abbiamo ancora una strategia. Sempre dall'iPhone che vogliamo localizzare, apriamo l'applicazione Dov'è. Da qui, in basso, dove ci sono le varie schede, clicchiamo la scheda Io e assicuriamoci che l'interruttore Condividi la mia posizione sia attivo. Inoltre assicuriamoci che questo iPhone stia condividendo la sua posizione con noi. Per farlo, scegliamo sempre dal basso la scheda Persone stavolta e assicuriamoci di comparire nell'elenco delle persone che vedremo lì. Se non vedete il vostro nome o la vostra mail di iCloud, semplicemente la posizione potrebbe anche essere attiva, ma non condivisa con voi. Quindi abbiamo visto tutti i modi per capire come risolvere il possibile problema della mancata condivisione della posizione. Se avete fatto tutto correttamente e eseguito i vari step di questa guida passo per passo, ora dovreste avere la posizione correttamente condivisa. Ma prima di salutarci, vi lascio anche un'altra chicca che può essere molto utile a volte. Dovete sapere che è possibile condividere una posizione finta. Magari per fare uno scherzo o per una visita sorpresa. Insomma, può tornare utile. Per farlo ci viene in aiuto Dr. Phone, quindi vediamo gli step. Innanzitutto scaricate l'installate Dr. Phone, ci sarà il link per farlo comodamente qua sotto in descrizione. Quindi procedete collegando l'iPhone di cui volete cambiare la posizione e il computer con un cavo USB. In caso compaia il pop-up che vi richiede di autorizzare il computer a leggere i dati dell'iPhone, voi date conferma e autorizzate. Quindi aprite Dr. Phone, cliccate su posizione virtuale e dall'elenco di dispositivi collegati selezionate il vostro iPhone. Quindi seguite le istruzioni che Dr. Phone vi darà per impostare il vostro iPhone in modalità sviluppatore dentro la sezione di privacy e sicurezza. Fatto questo, si riavvierà da solo l'iPhone, anzi vi chiederà di essere riavviato. Voi fatelo e avrete finito questa procedura. Quindi vi separerà una mappa sulla quale potete tranquillamente navigare, sia scorrendo e trascinando in giro, sia con la barra di ricerca che si trova in alto a sinistra. Selezionate la posizione dove volete far finta di trovarvi, cliccate il pulsante per trasferirvi e da quel momento in poi tutte le applicazioni sul vostro iPhone, dalle mappe a dov'è, al meteo, a qualsiasi altra applicazione che usi la posizione, sarà convinta che vi troviate nel posto che avete segnato sulla mappa, invece che in quello dove siete davvero. Tra l'altro la parte, secondo me, migliore è che dopo aver fatto la prima volta questo setup, quello collegando il cavo e poi attivando modalità sviluppatore, dentro le impostazioni, tutto questo, dalla volta dopo potete collegare direttamente l'iPhone e il computer tramite Wi-Fi. Quindi dal PC aprite solo Dr. Phone e modificate la posizione senza più dover fare alcun tipo di setup o nemmeno collegare l'iPhone. Molto comodo. E ora che sappiamo anche come andare a modificare la nostra posizione virtuale, beh, direi che possiamo salutarci. Mi raccomando se questo video vi è stato utile, magari ha risolto i vostri problemi o vi è piaciuto, potete lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare la campanella per essere sempre aggiornati con le novità. Inoltre potete lasciare un commento per qualsiasi dubbio, feedback o curiosità e condividere il video con chiunque possa averne bisogno. Noi ci vediamo alla prossima. Noi ci vediamo alla prossima. Noi ci vediamo le dom ni su already. Noi ci vediamo alla prossima.